salve a tutti bentrovati bentornati al riepilogo settimanale dei quiz e dei dipinti che propongo sui social di inside style case io sono elettra nicodemi e ho il piacere di darvi il benvenuto bentrovati siamo rimasti come uscita più recente al quiz su Huckleberry Finn il personaggio amico di Tom Sawyer coprotagonista del libro le avventure di Tom Sawyer e protagonista del libro le avventure di Huckleberry Finn scritti da Mark Twain scrittore statunitense nato nel 1835 e deceduto nel 1910 come sapete Mark Twain è uno pseudonimo al secolo Samuel Langhorne Clemens tra le posizioni che si possono scegliere Mark Twain ecco è stato uno scrittore aforista docente e umorista mentre tra le definizioni che gli sono attribuite il premio Nobel per la letteratura a 1949 William Faulkner che aveva grande stima di lui lo definì il primo vero scrittore americano lo pseudonimo Mark Twain come sapete deriva dall'esperienza di pilota di battello quando si controllava la profondità del fiume se dal segno by the Mark Twain ovvero due due leghe due tese scusate la profondità circa 3 metri e 70 era adatta per non incagliarsi con il battello quindi tutto bene si poteva procedere la biografia di Mark Twain è segnata da drammatici lutti e da varie vicende che si possono in qualche modo ritrovare nei suoi romanzi di fantasia naturalmente rielaborati e trasposti come ad esempio anche nei luoghi ad esempio la città immaginaria di San Petersburg di Huckleberry e Tom sembrerebbe ispirata ad Hannibal la città del Missouri dove Samuel Langhorne crebbe mentre invece tra le altre opzioni possibili era segnato Jack Kerouac e Ernest Hemingway anche loro scrittori americani e statunitensi ma il primo Jack Kerouac fumito e pioniere della Beat Generation mentre Ernest Miller Hemingway scrittore giornalista statunitense premio Nobel per la letteratura è autore di molti scritti tra cui i più noti il vecchio e il mare e avere e non avere e entrambi non erano ancora nemmeno nati quando veniva realizzata l'illustrazione di Huckleberry Finn che abbiamo visto e che deriva da una edizione del libro del 1884 su Mark Twain ho avuto modo di parlare già a proposito di un'altra opera il principe e il povero entro l'articolo consigli di lettura che trovate sul sito inside the staircase la video recensione del libro è nel canale youtube entro la playlist letteratura altro quiz che ho proposto in settimana quello sul dipinto di Michelangelo Merisi da Caravaggio allora la risposta esatta era dalla Bibbia infatti il tema di cui mirabile realizzazione di Caravaggio deriva da un libro della Bibbia intitolato Giuditta di cui personalmente sto scrivendo nell'articolo storia biblica dipinta il dipinto che mostra il ritratto a figura intera dell'imperatrice caterina la grande caterina seconda di russia con le insegne imperiali e la corona fu reali realizzato da Virgilius Erikson si tratta come riportato dall'enciclopedia di una seconda versione del 1778 79 conservata in Danimarca presso copenaghen magari avrò modo di scrivere più approfonditamente dell'imperatrice caterina seconda nell'articolo storia dipinta che attualmente sto aggiornando con Enrico Tavo Tudor il papà di Enrico VII che tra l'altro compare come coprotagonista nel testo di Mark Twain il principe e il povero vado avanti con il dipinto proposto che mostra il ritratto a figura intera di re Carlo I fu realizzato da Anton van Dyck o van Dyck si possono vedere sul ripiano i simboli regali come ad esempio il globo terracchio con la croce e poi anche si vede la corona Charles I fu decapitato il 30 gennaio 1649 a seguito della condanna a morte a sua volta seguita al processo come esito della guerra civile legata alla ribellione dall'imposizione della monarchia come diritto divino e fu proprio a lui a Charles I Carlo I a cui Rubens donò il dipinto conservato a Windsor che mostra Minerva che protegge la pace che sarebbe la donna seduta in primo in quasi in secondo piano ma diciamo così in primo piano rispetto a Minerva da Marte ovvero dal dio della guerra e fu realizzato a seguito di una missione diplomatica del 1629 del pittore a Londra per la pace tra Inghilterra e Spagna infatti banalmente Minerva assume una veste allegorica di sapienza e conoscenza mentre Marte è allegoria per la guerra essendo l'una una divinità legata alla scienza e alla conoscenza mentre invece ecco omologa di Atena nella mitologia greca mentre l'altro sarebbe il dio latino della guerra omologo di Ares nella mitologia greca sempre tra l'altro lui stesso Peter Paul Rubens ebbe realizzato qualche anno prima nel 1625 un ritratto di Carlo I allora principe di Galles e futuro re d'Inghilterra Rubens era un pittore coltissimo e la sua produzione che spazia da temi mitologici a temi biblici ne è la dimostrazione a proposito vedremo una damo ed eva di Rubens prossimamente restate con me inside the style case a tutti un grande abbraccio e arrivederci Grazie